Sotto la superficie dei regimi restaurati, nella seconda metà degli anni 40 si muovono nuove energie, nuove aspettative, ma anche cominciano ad aprirsi faglie e crepe in strutture ormai secolari. La borghesia chiede libertà di stampa, di associazione, di riunione e rappresentanza parlamentare. Spinti da esigenze economiche e politiche, i ceti borghesi si ribellano all'assetto istituzionale territoriale stabilito dalle grandi potenze nel congresso di Vienna, che aveva reintrodotto barriere artificiose e non aveva tenuto conto delle aspirazioni dei popoli alla libertà e all'indipendenza. Gran parte dell'Europa è così percorsa da un diffuso malessere sociale. L'insofferenza delle popolazioni europee è acuita nel 1846 e nel 1847 da una profonda crisi economica, aggravata da cattivi raccolti di grano e patate, alimenti essenziali per l'alimentazione dei ceti popolari. Questo è il clima di tensioni politiche, economiche e sociali in cui maturano le insurrezioni del 1848. Rivoluzioni che sono dunque il risultato esplosivo della trasformazione della società europea. L'epicentro della ribellione è la borghesia, una classe in ascesa che non si adatta più all'ordine costituito, mentre contadini e operai avanzano richieste di riforma sociale. In Italia, alla vigilia del 1848, due correnti politiche si contendono la direzione del processo di cambiamento, i democratici e i moderati. I primi si riconoscono in larga misura nelle posizioni di Giuseppe Mazzini, il cui obiettivo è una rivoluzione per la creazione di una repubblica unitaria e democratica con il consenso e l'apporto dei ceti popolari. I secondi sono i primi secondi, respingono la via rivoluzionaria e puntano alla concessione di riforme concordate pacificamente tra principi e popoli e alla creazione di una confederazione di stati, con l'eliminazione delle barriere doganali per favorire gli scambi e la nascita di un unico mercato nazionale. Dopo alcune proteste e manifestazioni stroncate con sanguinose repressioni, il 12 gennaio 1848 l'insurrezione di Palermo inaugura la stagione delle rivoluzioni, dopo che, pure a Milano, vi erano stati morti e feriti per lo sciopero del fumo, deciso dai cittadini per danneggiare l'erario austriaco. A Napoli il re Ferdinando, confuso, incerto, pauroso, credeva sentirsi traballare il suolo sotto i piedi. Preso la determinazione che per allora lo salvava e accordò la Costituzione. Così, il passaggio alla monarchia costituzionale avviene poco dopo negli altri stati della penisola, con la concessione degli statuti nel Gran Ducato di Toscana, nel Regno di Sardegna e nello Stato Pontificio. L'Italia è in fermetto. Anche in Europa germoglia il seme della rivolta. È la primavera dei popoli che esplode a Parigi il 22 febbraio. Operai, borghesi, studenti e intellettuali, tutti insieme innalzano le barricate sulle quali si combatte per tre giorni, fino a raggiungere la caduta della monarchia conservatrice di Luigi Filippo e la proclamazione della Seconda Repubblica. L'insurrezione di Parigi crea un effetto domino in tutto il continente. La rivolta si propaga immediatamente a Vienna, il centro della reazione europea e nelle altre terre dell'impero degli Asburgo. La rivoluzione dilaga anche nell'area tedesca, con un accentuato carattere liberale e nazionale. La reazione a catena coinvolge anche il Lombardo-Veneto, imprimendo una nuova accelerazione alla situazione italiana. Milano e Venezia insorgono contro gli austriaci. Il 18 marzo scoppia il moto milanese. Cinque giornate con un crescendo di iniziative spontanee che solo nel corso stesso dell'insurrezione trova un centro direttivo nel Consiglio di Guerra guidato da Carlo Cattaneo, mente strategica dell'insurrezione ed esponente di primo piano della corrente repubblicana federalista democratica. La pressione dei milanesi costringe il generale austriaco-radeschi a ritirare le truppe imperiali dalla città, ormai diventata un groviglio di barricate, e a ripiegare sulle fortezze del quadrilatero. Il 23 marzo del 48 a Turino una grande manifestazione invoca la guerra all'Austria. Carlo Alberto si affaccia alla loggia reale sventolando una sciarpa tricolore. Intanto in un proclama annuncia ai popoli della Lombardia e del Veneto di accorrere in loro soccorso. Ha inizio la prima guerra d'indipendenza. Le esitazioni strategiche favoriscono la controffensiva austriaca e le sconfitte sul campo mettono in crisi il progetto di Carlo Alberto, portando alla luce tutte le sue incertezze e contraddizioni. I volontari per lo più di ispirazione mazziniana rifiutano però di abbandonare le armi. In Lombardia Garibaldi non riconosce l'armistizio piemontese del 9 agosto e con 800 uomini continua nella guerriglia contro gli austriaci fino alla fine del mese. Intanto, nonostante la sproporzione delle forze in campo, sul territorio italiano due repubbliche resistono ancora eroicamente per mesi. La Repubblica di Venezia tra il marzo del 1848 e l'agosto del 49 e quella romana tra il febbraio e il luglio del 1849 diventano i simboli di un 48 che non si vuole arrendere ma che è costretto a cedere alla controffensiva restauratrice. Proprio lì, in Piemonte, è ripresa la guerra contro l'Austria. Carlo Alberto decide di disdire la tregua e tornare all'attacco per evitare una grave crisi interna e contrastare il forte prestigio assunto dai repubblicani a Roma, a Venezia, in Toscana. Ma le sue velleità ancora una volta sono frustrate. La guerra dura appena quattro giorni, dal 20 al 23 marzo e si chiude con la pesante sconfitta di Novara e con Radeschi che può dettare le condizioni di pace dell'Austria. La sera stessa il re abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II e parte per l'esilio in Portogallo dove morirà il 28 luglio. Nonostante l'insurrezione di Brescia per dieci giorni contro gli austriaci, l'Austria può cantare vittoria su tutti i fronti e con essa l'intero blocco dei governi conservatori. La primavera dei popoli si è spenta in Italia e nel resto d'Europa. Inizia l'estate del 49. La parola passa ai cannoni dell'esercito e alla repressione. Si chiude definitivamente l'anno dei portenti. Si chiude il 48 delle rivoluzioni borghesi per l'indipendenza nazionale e le libertà politiche. E si chiude il 48 delle rivendicazioni delle masse diseredate. La deriva dei re è terminata. Ad eccezione della Francia dove resiste la Repubblica, che però ha imboccato la strada che porterà all'impero di Napoleone III, quasi tutti i sovrani spodestati tornano sui loro troni, convinti di poter riportare indietro le lancette della storia. Il 48 segna comunque una svolta epocale. Tornare indietro è impossibile, in Europa, in Italia e nel Piemonte. Il regno di Sardegna, costretto ad ingoiare l'amaro calice della pace con l'Austria, non rinuncia allo statuto albertino e si presenta all'inizio del nuovo decennio come uno stato costituzionale, ancora da rinnovare in profondità, ma anche luogo di confluenza di migliaia di esuli da tutti gli stati italiani e con nuovi schieramenti politici capaci di esprimere un ceto dirigente finalmente riformatore. Grazie a tutti.